Un pentacolo rovesciato è una scritta, Ic Finit Deus, qui finisce Dio. È l'immagine comparsa davanti agli scalini del santuario Santa Maria del Binengo a Serniano. Il pentacolo ha molti significati nella simbologia, quello rovesciato però viene utilizzato solitamente dai satanisti, che lo disegnano al contrario come insulto a Dio. La scritta è invece una citazione del film horror The Nun, La vocazione del male, pellicola del 2018 di Corinardi. Il disegno è stato realizzato nella notte, come testimoniano alcuni sternianesi che ieri prima delle 22 sono transitati in zona e non hanno notato nulla di insolito. Non è la prima volta comunque che nei pressi del santuario compaiono scritte e disegni blasfemi, come ricorda il sindaco Angelo Scarpelli, che annuncia anche l'implementazione del sistema di videosorveglianza. La parrocchia, questa volta, ha deciso di sporgere denuncia contro i gnoti ai carabinieri. Speriamo. Un po' di giorni fa i carabinieri sono intervenuti, hanno fermato dei ragazzi, li hanno convocati in caserno, mi sembra che li abbiano multati, perché avevano fatto dei dispetti qua nel parcheggio nuovo, e hanno rotto un po' di roba. Speriamo che questa cosa qua vada a buon fine. Però non è la prima volta che succede lì al Binengo. Già un po' di anni fa ho sempre scritte blasfemi. L'abbiamo solo volato perché era una scritta, è stata cancellata con una pennellata. Speriamo che non succeda più. Speriamo.